Mai in 78 anni ho visto cosa sembra, ho visto la morte con gli occhi, mi deve credere, ancora non ci credo, quello che abbiamo passato. Il fuoco è arrivato fino alle case? Sì, se io non c'ero, il sindaco ha detto, gli avvocati, gli avvocati, andate a venire tutti, no, io invece rimanei e ho salvato la casa e qui d'accanto. E io con l'acqua, con tutti gli occhi bruciati, una cosa terribile, non c'è ancora nessuno, quello che abbiamo visto. Il fuoco già si notava in lontananza nel primo pomeriggio? Tutto si pensava, tutto, non pensavo mai che poteva arrivare qua, anche perché qua ci fanno una strada per fare la pallefacazione, e penso non passerà, è il vento, il vento è quello che ho accoppiuto di più. E meno male che avevo tutti i persiani di legno, per fortuna l'ho salvato. Quando avete capito che la situazione era particolarmente critica, difficile? Pesso l'undici e mezzo così, 12.04, così c'era un fuoco terribile, era una cosa impressionante, era una cosa impressionante, non c'era ancora nessuno. Da quartiere è partito, lo pensi? Questo fuoco è partito da quartiere. Si è esteso poi in tutta la collina? Tutto, tutto, la salina, la contrata a serro, tutto, tutto. Ma non pensavo mai di arrivare fino a qua, non lo pensavo mai. Come è trascosso questa notte? All'impiede sempre, all'impiede, dell'undici fino alle settimane, spegnendo il fuoco e buttando l'acqua. Io, mio nipote e mio nipote pure. Qui dietro alle sue spalle invece vediamo che questo fabbricato è stato raggiunto, è devastato dal fuoco. Sì, come l'ho visto, era vecchio però, era tutto di legno, però il fuoco è entrato dal lato campagna, non dalla strada, dal lato della campagna, capisci? Siccome c'erano le aperture di legno, è preso un fuoco e è successivo quello che è successo. Una cosa impressionante, guarda, una cosa da non descrivere, non ci va con il nudo. Quando la situazione è stata sotto controllo? Sotto controllo, verso le sei, così, di mattina, perché prima c'erano i vigili del fuoco di Catania, di Siracusa, poi se ne sono andati. Poi mi ha chiamato l'ex-sindro, a Derone, dice, Nino, vedi che c'è ancora fuoco. Chiamavamo e venivano chiedere da parte. E c'era il tempo, perché tutti i terniti, tutti i legno, e si è andato tutto a fuoco. A casa mia, io ero accanto. Meno male che un giorno, perché settimana prima avevo tolto tutte le tende per preparare il suolo. Mi consumavano, mi consumavano. Adesso c'è questa immagine di un territorio devastato. Eh, no, no, sembra peggio di un cimitero sempre. Una cosa impressionante. Al cimitero, pure tutto bruciato, campagna, cose. Pagenza, l'importante è che le persone siamo salve, non si è fatto male. Mia nipote è dovuto andare all'ospedale per far sicurare gli occhi che si è entrato un pezzo di fuoco. L'aria è stata irrespirabile. Ah, ci avremmo i versati a casa mia, io c'era una ondata di fumo che aveva bucchia e sembrava una cosa uscita dal forno. Non si può dire niente, niente, è una cosa indescrivibile. Il vento è quello che fece Giudano ancora. Perché a certi punti non poteva trovare mai, mai. Vai, vai. Quindi il vento fu, il scirocco, caldo. Un fuoco come camminava veloce, ma una cosa impressionante, ma una cosa da non credere. Ha avuto paura in qualche momento? Logico che abbiamo avuto paura tutti. Mia sorella si è messa a piacere, mia nipote pure, facendo gridare sempre, mio nipote, l'altro, suo marito, con l'occhio che non vedeva, era la che aiutava. Non ci siamo risparmiati per niente. Ancora è avuto i mari pure fatti di tutto di fumo, vedete? Per quanto cosa ho preso con le mani.